Buonasera, benvenuti, caspita quanta gente Alessandro, le portate tutti tu, tutti alunni, benvenuti per, parliamo del romanzo di esordio di Alessandro, il primo romanzo che sta andando molto bene, noi a Vanity Fair siamo particolarmente contenti perché l'abbiamo tenuto a battesimo, e Bianca come il latte, rossa come il sangue è un romanzo che è vicino al mondo di Alessandro, che è quello della scuola, perché i protagonisti sono dei giovani studenti, sono Leonardo, Leo, il vero protagonista della storia, ci sono Silvia, Beatrice, Nico, una figura bellissima, è l'amico del cuore di Leonardo, ne parleremo, ed è, partirei proprio dal titolo, e come sa Antonio Franchini che è un maestro di titolo importantissimo, che nasce dalla frase tratta dall'amore e tre melagrane di Italo Calvino, che Alessandro ha messo dopo, prima all'inizio del libro, che dice così, un figlio di re mangiava a tavola, tagliando la ricotta si ferì un dito e una goccia di sangue andò sulla ricotta, disse a sua madre, mamma vorrei una donna bianca come il latte e rossa come il sangue, e figlio mio, chi è bianca non è rossa e chi è rossa non è bianca, ma cerca pure se la trovi, Partiamo da qui Alessandro, perché questa citazione in apertura? Intanto perché c'è la ricotta, essendo io siciliano sono un fan dei cannoli, e quindi dove vedo ricotta non capisco più niente. Il vero motivo poi è che mi è sembrata la frase che potesse riassumere in un'unica metafora quello che c'è dentro il romanzo. Questo romanzo è un grande attestato di stima verso le persone con cui passo metà delle mie giornate, a volte di più correggendo i loro temi, ne vedo alcuni lì, tutti in piedi, grazie di essere venuti, perché nella loro vita appunto c'è questa, sono in un momento della loro vita in cui c'è una fame, una sete di realtà che è il bello della loro età, e io ho il privilegio di affiancarli in questo momento della loro vita. E siccome ero un po' stufo di sentire raccontare questi ragazzi in una maniera appunto che un po' mi deludeva, ho detto devo essere fedele a me stesso, a quello che vedo ogni giorno in classe e raccontare come sono veramente. Alcuni hanno tacciato questo romanzo di eccessivo buonismo, un romanzo in cui sembra di essere fuori dalla realtà, ma è un romanzo che con la realtà ha molto a che fare, perché questo principe che cerca una donna bianca come il latte, rossa come il sangue, quello che cerca in realtà è la realtà. Siamo in un'epoca in cui noi della generazione precedente stiamo dando a questi ragazzi un po' troppo reality e un po' poca realtà, perché siamo alla decima edizione del Grande Fratello, quindi qualcuno qui dentro connivente ci sarà. Ora, non vi fate venire senza di colpa, ma fateveli passare subito e tanto non servono. E io faccio una battaglia con i miei alunni, qualche giorno fa una mia alunna alla fine di una lezione di poesia in cui mi ero infervorato, forse per l'ennesima poesia che loro odieranno, mi ha detto professore lei dovrebbe guardare un po' più di Grande Fratello e leggere un po' meno di poesia. E allora io, questa è la mia battaglia, stare in classe per lasciare al mondo alla fine di questi cinque anni di percorso persone innamorate della verità, della bellezza. Quindi il protagonista è un ragazzo che cerca la realtà tutta intera, che ha questi aspetti di rosso che sono tipici di quest'età, l'innamoramento, la magia del primo amore e la battaglia per conquistarlo, ma allo stesso tempo trova l'altra faccia di questo rosso, che paradossalmente non è il nero, ma è il bianco. Ecco Leonardo, come siamo stati tutti o molti di voi sono a 16 anni, è un finto duro, cioè noi a 16 anni ci sentiamo, ci facciamo finta di essere dei duri, di poter superare, di essere più furbi del professore, di essere più svegli della mamma e del papà, di saperla comunque più lunga e in realtà siamo ancora molto lontani dalla vita. Però Leonardo è un bel personaggio perché vive quello che tutti noi abbiamo vissuto a quell'età, vive il dolore perché Beatrice, la ragazza che sogna, che scopre essere malata e vive la malattia di Beatrice con ansia, vive la lite con il suo amico, le liti, le difficoltà con il suo amico del cuore Leo, vive i suoi problemi con i genitori. Da dove nasce Leo? Da dove viene fuori? Leo viene fuori tanto da qua dentro, è un personaggio che mi portavo dentro da un po' di annetti e poi negli ultimi tre anni, cioè due anni di scrittura, finalmente sono riuscito a dargli vita. Quando ho iniziato a scrivere il romanzo avevo iniziato a scriverlo in terza persona, ma alla terza pagina mi sono reso conto che c'era un atteggiamento un po' troppo moralistico nei confronti di questo ragazzo ed è come se mi avesse detto scrivimi in prima persona. Così ho cominciato a fare e ho scritto così di getto le prime cinquanta pagine. Ed è stato il regalo più bello che questo romanzo mi ha fatto perché ho dovuto sposare tutte le contraddizioni del mio protagonista. Io credo che la metà, no, di più della metà, l'ottanta per cento dei problemi educativi oggi derivino dal fatto che ci dimentichiamo di avere avuto la loro età. E il romanzo mi ha costretto ad avere di nuovo quella età pur rimanendo un adulto. E allora mi è capitato di dover essere fedele al mio personaggio contraddicendo quello che io penso realmente su quei temi. E questo mi ha aiutato moltissimo ad avere grande misericordia verso il mio personaggio e a capire che sono in un periodo della vita talmente confuso, talmente confuso, che queste contraddizioni che ci sono nella loro vita quotidiana vanno affiancate. E invece molto spesso noi quello che facciamo è che le giudichiamo, le additiamo, le allontaniamo e pensiamo che con un discorsetto mettiamo tutto a posto. E invece si educa solo con la vita. Io dico scherzando che questi miei ragazzi che stanno lì. Io ho scritto il romanzo per, primo, far capire loro che scrivere non è un compito che ti dà il professore, ma è un'avventura che ti fa scoprire meglio chi sei. Secondo, perché almeno avrebbero letto un romanzo nella loro vita. Poi in realtà sono dei lettori appassionati e ne vengono molti più di uno. Quindi Leo viene dall'avere recuperato la memoria della mia adolescenza. E il secondo regalo più bello che mi ha fatto, che è quello che sto rivedendo anche attraverso una serie di lettere di adulti che mi schierano che hanno letto il romanzo, perché io mi chiedevo, ma noi di questa benedetta adolescenza di cui stiamo facendo l'unica età della vita in questo nostro mondo, perché c'è questo giovanilismo straordinario per cui tutti dobbiamo tornare adolescenti. Invece io mi chiedevo, sapendo che questo è un inganno, perché io sono contento di avere 32 anni, quindi di essere un adulto, e adulto voglio essere. Mi chiedevo cosa dell'adolescenza non vada perso, non debba andar perso. E il romanzo mi ha fatto questo regalo. Ho capito che appunto la giovinezza è fatta per capire ciò che rimane fermo anche quando passa la giovinezza. E dell'adolescenza sarebbe bello che rimanesse sempre questa apertura alla bellezza, alla verità, al bene, che c'è solo in questa epoca della vita, con questa fame, con questa sete. Poi inevitabilmente un po' ci spegniamo per forza di cose, perché è la fatica della vita, l'abitudine. E se io riuscissi appunto a mantenere lo slancio che vedo in loro giorno per giorno, sarei soddisfatto di aver recuperato questa età della vita e di averla integrata proprio anche nell'età adulta. Quindi Leo viene fuori da lì. È vero che è una spensieratezza che poi si perde, non si trova. Però tu hai detto una cosa adesso, io ho avuto misericordia per Leo. Leo però non ne ha per te, o comunque non ne ha per il sognatore, il professore che arriva. Perché quando il professore arriva, questo nuovo supplente, Leo lo prende subito di punta, fa il furbo, cerca di prenderlo in giro durante la lezione e si ritrova spiazzato dalla tranquillità di un insegnante che invece di mettersi sulla cattedra e dare voti, scende. Una volta c'erano le predelle, io non so se adesso ci sono, non esistono più le predelle. Ed è un guaio perché questa generazione, non ci sono più neanche i gessetti, ci sono i gessetti. In alcune classi. Ed è un guaio perché questa generazione, io non so cosa mangi, quindi tre quarti dei miei alunni sono più alti, più grossi di me, è un guaio. Se non mi dovrebbero restituire le predelle. Però questo rapporto, questo tentativo di cercare un rapporto, penso che un po' ti assomigli, assomigli, nel sognatore. Tu sei sparpagliato nei vari personaggi del libro, come credo in ogni libro, c'è buona parte dello scrittore. Mi ricordo una volta Antonio Perez-Reverte mi aveva detto che ogni scrittore ha sulle spalle una mocilla, uno zaino, dentro il quale mette tutte le proprie esperienze, ma ogni volta che scrivo un romanzo ne tira fuori un po' e le dissemina nel romanzo. E quanto c'è di te in quel professore e quanto vorresti che ti assomigliasse? Cioè fino a che punto ti assomiglia e fino a che punto vorresti che ti assomigliasse? Allora, intanto... Poi magari lo chiediamo anche a loro, eh? Sì, 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 anzi, poi ne invitiamo qualcuno, quelli con cui sono d'accordo naturalmente, non tutti. E allora... E che domani non saranno interroganti. Domani per fortuna non c'è scuola, quindi... Vediamo un po'. Il sognatore ha la psicologia all'inizio del romanzo del supplente, che è una psicologia tra le più devastate che esista sulla faccia della terra, perché il supplente è uno che entra in classe sapendo di dover essere demolito dai suoi alunni, perché non ha nessun potere, cioè l'unico potere che hanno i professori è la penna che verga sul registro quei meravigliosi voti, no? Il supplente entra sapendo di avere a disposizione al massimo una matita e quindi poi inevitabilmente la gomma passerà su quel voto, quindi effettivamente verrà cancellato, non ha alcun potere. Ed è quello che mi è successo con questi ragazzi, perché io ho cominciato a insegnare nella scuola in cui insegno grazie a una supplenza, perché un collega che non conoscevo ha avuto un'ernia. Allora c'è già questa frustrazione al quadrato, perché tu sei uno che va a fare già un lavoro di per sé da supplente e in più porti gliela a un altro, perché supplisci perché un altro sta male. Quindi entri in classe e pensi di non avere nessuna possibilità. Poi in realtà quando te la giochi alla grande, anche se passerai con loro solo poche ore e dici io qui me la devo giocare veramente alla grande perché l'unico tempo che mi è dato di passare con questi ragazzi, io mi trasformo in un sognatore in classe, cioè ho la pretesa di credere a questa gente qui, che è un popolo meraviglioso a cui non stiamo dando tanto credito purtroppo. E quello che avviene è che in quell'ora li vedi trasformarsi perché trovano un adulto che crede in quello che fa. Poi l'altro giorno c'è stato un produttore cinematografico che mi ha detto ma questo suo romanzo in cui c'è questo professore che fa così il suo lavoro è un po' trasgressivo. Dico, oh, meno male siamo arrivati a questa trasgressione in cui c'è uno che prova a fare bene il proprio lavoro. Ormai siamo nell'epoca dei reality veramente al divertimento su ciò che è trasgressivo. E quindi quello che succede è che sì, no, io mi ritrovo molto nel sognatore perché sono un sognatore, entro in classe sognando e volendo far diventare, riempire la mia vita delle loro vite che sono poi i miei sogni. L'altro aspetto è che spesso questo personaggio viene paragonato al professor Keating dell'attimo fuggente. Allora, questo paragone a me piace fino a un certo punto perché il professor Keating è uno che seduce i suoi alunni e fondamentalmente li porta a se stesso. A me quello che piace del sognatore, e in questo vorrei assomigliargli sempre di più, è che il sognatore porta Leo a Leo, non porta Leo al sognatore. Quindi la grande sfida è poi affiancarli in un viaggio in cui loro diventino pienamente se stessi attraverso delle mete che noi additiamo grazie al fatto che siamo adulti. E a proposito del rapporto tra ragazzi e adulti. Ragazzo, professore, tu lo sai, c'è un passaggio che mi è piaciuto molto nel libro ed è il colloquio al limite della lite tra il padre di Leo e appunto Leo, perché Leo viene beccato come succede a tanti e come è successo a molti di noi e come succederà sempre, perché non va a scuola, non va a scuola non per fare il cretino, ma non va a scuola perché sente di dover andare a trovare la sua amica malata. Quindi salta alla scuola, viene beccato, si prende una lavata di testa dal padre, però succede qualcosa in quel momento che li unisce, nel senso che il padre riconosce quello che tanti di noi genitori poi fanno fatica a fare, riconosce al figlio tutto sommato la legittimità di quel lato e confessa a sua volta di averlo fatto perché noi nel momento in cui diventiamo genitori automaticamente cancelliamo il passato da figli e è una cosa che succede troppo spesso e quello è un punto molto bello perché in quel momento c'è su un fatto apparentemente negativo, è un fatto che può portare a uno scontro, si scatta con la scintilla che li unisce. Da dove nasce questa cosa? Nasce dalla pretesa che ogni cosa che accade nella realtà ha un senso se riusciamo a darglielo. Quindi è l'idea che qualsiasi cosa ti faccia un alunno in classe è un'occasione educativa e quindi non bisogna perdersela. Io rischio a volte di sembrare un fan sfegatato dei miei ragazzi contro gli adulti. No, io non sono né per i ragazzi né per gli adulti, io sono per la relazione. Cioè tutto ciò che aiuta a migliorare la relazione fra le due generazioni e ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Si parla tanto di emergenza educativa, sembra che oggi educare sia diventato impossibile perché c'è una paura pazzesca, invece non è cambiato assolutamente niente, semplicemente è diventato tutto più veloce. Ma questi signori qui, quello che cercano è quello che abbiamo cercato noi, identità, autonomia, libertà e vogliono vedere negli occhi degli adulti chi, chi dà garanzie che la vita sia una promessa. E noi negli occhi abbiamo questa vita come promessa. Allora io quando entro in classe devo riuscire, nonostante il sonno, loro lo sanno, le prime ore sono sempre drammatiche perché il prof ancora non connette del tutto, devo riuscire a trasmettere loro che vale la pena diventare adulti. Ed ero stufo di leggere romanzi per loro in cui gli adulti non sono altro che degli sfigati che hanno nostalgia di essere come sono loro adesso. E volevo invece che ci fossero delle figure adulte positive nella loro semplicità, perché non fa, poi questo papà non è che fa niente di straordinario, semplicemente a un certo punto è lì. Nel momento in cui questo ragazzo si apre alla realtà perché ci entra prepotentemente, scopre di avere bisogno che qualcuno lo affianchi. E il papà non rinuncia a stargli accanto. Episodio che mi viene raccontato da un sedicenne. Mio papà mi chiama alle tre e mezza di pomeriggio, il papà è un avvocato, quindi pieno di lavoro, e il figlio si preoccupa naturalmente. Dice papà che succede? Niente, volevo sapere come stavi. Allora è questo, è questo che ci stiamo perdendo, la bellezza delle piccole cose nelle relazioni, di cui questi signori qui hanno un bisogno incredibile. Perché io do per scontato che tutti i genitori amino i loro figli, questo proprio sta nel DNA di un genitore, ma non tutti i genitori a volte sono capaci di fare sentire amati i loro figli. Allora questa è la, credo, la sfida educativa di questo momento, avere queste piccole, grandi attenzioni che fanno sentire i ragazzi amati. E questo poi ti basta per un mese, perché questo episodio mi viene raccontato a distanza di tempo come una delle cose più significative del rapporto fra padre e figlio, e non è che ho raccontato chissà quale. In un'epoca in cui sembra che non si possa educare se non ho tutti i manuali di sociologia, psicologia, psichiatria e criminologia in alcuni casi, e una serie di esperti pronti a darmi consigli giusti. Invece c'è una quotidianità che la famiglia sa e può affrontare. Io poi, se dopo rimane tempo, ti vorrei leggere un'email che mi ha mandato un'alunna qualche tempo fa, perché ritengo che sia un po' anche, che rivela questo. Leggiamola subito, subito. Ok. Io quando devo provocare i miei ragazzi, dico loro chiedeteci se siamo felici. E lì poi appuntualmente ti arrivano 15 email dei tuoi alunni che ti chiedono, ma prof lei è felice? E perché? Io rispondo a una di queste email e una mia ex alunna a sua volta risponde. Caro prof, non solo mi ha risposto pienamente, ma mi ha anche fatto riflettere. 14 anni. Beh, a sentire le sue motivazioni credo di esserlo anch'io. Insomma, nella vita di ognuno di noi ci sono momenti difficili, a volte si ha voglia di piangere, di sfogarsi, ma alla fine ci rendiamo conto di essere circondati da persone che ci vogliono bene e che farebbero di tutto per noi. Secondo me questa è la cosa più importante. L'amore e l'affetto sono le cose più belle che una persona possa darti e io mi sento di riceverne moltissimo. Sì, sono felice. E ora ne sono certa. Ci ho pensato ieri notte. Ogni tanto questi adolescenti meravigliosi che perdono il sonno per le cose che veramente contano. E mi sono accorta che a me non manca niente. Non sto dicendo che essere felici dipende da cosa si possiede. Parlo di cose astratte, come l'amore. Perché a 14 anni l'amore è ancora una cosa astratta. Credo che da questa parola derivi tutto. A volte, soprattutto d'estate, quando sono in barca con mio padre. Ecco questo padre che compare, senza fare niente di particolare, stando in barca con la figlia. Mi capita di assistere a tramonti bellissimi che ti fanno riflettere quando ti perdi in quei meravigliosi colori che si intrecciano l'uno con l'altro. È lì che penso di essere felice quando senza notarlo inizio a sorridere. Quando non penso ad altro che a quel tramonto di come sono fortunata di essere venuta al mondo e soprattutto della fortuna che ho di poter vedere tutte queste bellezze. Il mondo è bellissimo, io sono venuto al mondo per vederlo, per esplorarlo e il mio scopo è di capire il motivo per il quale Dio mi ha fatta nascere. Un giorno lo scoprirò e di certo sarà quel giorno che potrò affermare di essere veramente felice. Allora voi ditemi se uno non deve scrivere un romanzo. Questi sono i regali che io ricevo puntualmente nella mia casella di posta, perché ho un rapporto di questo tipo con i miei ragazzi, che comunque ho un rapporto di distanza in cui si dà del lei, non hanno il mio numero di cellulare, possono testimoniare, però hanno l'email, che è un'occasione di poter dire delle cose come queste che in classe naturalmente non vengono fuori. E allora, la domanda qual era? Io mi sono perso. Siamo partiti dal rapporto del papà. Ecco, appunto, quindi io mi sento padre di questi ragazzi. La cosa straordinaria è che l'insegnamento che io credevo che mi regalasse la bellezza di studiare le cose che mi piace, mi sta regalando un sacco di figli. La cosa più bella, divertente. Lasciamo perdere Leo adesso, visto che hai citato una tua alunna. Parliamo di Silvia, che è una bellissima figura di questo libro. Silvia è la compagna di classe che tutti vorremmo avere, quella brava, che ti fa studiare, che ci aiuta nei compiti, non ti frega mai, è onesta, pulita, al limite dell'autolesionismo a volte. Però, e lei, esiste questa studentessa? Cioè, esiste questo tipo di alunna? Non posso rispondere a questa domanda. Esiste, esiste e ce ne sono molte più di quanto si creda. E io l'ho scoperto attraverso queste email qui. Io ho dato il mio romanzo da leggere ad alcuni miei alunni in anteprima, cioè ad alcuni, ai miei alunni in anteprima, sono quelli che stanno lì, e loro, appunto, mi davano un feedback con le loro reazioni, di pancia, perché poi un quattordicenne legge i libri con la pancia, non con la testa. E una delle reazioni più positive è stata proprio su questo personaggio di Silvia. C'è stata una specie di fan club che si è subito creato per dire ecco finalmente la nostra eroina. Cioè quella ragazza che sa che ha il cuore, io dico, a forma di orecchio, che sa stare lì in silenzio, ascoltare in un mondo in cui essere timidi e riservati sembra essere diventata una delle colpe più grandi, quanto bisogno invece c'è di questa femminilità discreta, silenziosa, che affianca. Il romanzo è anche un grandissimo inno alla femminilità, perché queste due figure femminili sono due figure straordinariamente belle. E questa femminilità c'è, c'è in molte più ragazze di quante si voglia credere, solo che noi appunto siamo sovraesposti a un tipo di femminilità forse più gridata che finisce con appunto il contraddire se stessa proprio attraverso questo suo grido. E quindi dico, e sto ricevendo anche tante lettere di gioia per questo personaggio in cui tante persone si identificano. Tu hai detto questa cosa, gridata, in effetti mentre tanto Leo è a sua moda, come dicevamo prima, questo finto duro, un po' cacciarone, un po' quello che alza la voce, che fa le sfide in motorino con il suo amico, che fa tutte le bravate, tanto Silvia è una che ascolta ed è silenziosa, è quasi un invito ad abbassare i toni, un invito che dovremmo cogliere spesso a tanti livelli. Guarda, io credo che in questo momento ciò che è più massacrato in questi ragazzi è proprio il tema della conversazione interiore, che sembra un termine altisonante, ma in realtà è quel momento in cui uno si guarda allo specchio e quando è adolescente quello che succede e che non vuole più uscire dal bagno. Quando è adulto supera la frustrazione di guardarsi allo specchio più rapidamente e quindi poi affronta il mondo. Ma benedetto questo momento nella vita di un adolescente, perché se voi mettete, esempio che faccio sempre ai miei ragazzi, un cane, un gatto o un bambino piccolo di fronte allo specchio, pensa di avere di fronte un altro cane, un altro gatto o un altro bambino. Questi signori invece quando si guardano allo specchio per la prima volta colgono che c'è una distanza fra quello che si vede sulla superficie e quello che loro sono veramente. Per questo non escono dal bagno, perché hanno una paura terribile che non si veda all'esterno quello che cominciano a percepire come questo eccesso che loro sono rispetto a ciò che si vede. Per questo poi provano con un milione di esperimenti a regalarsi al mondo attraverso capigliature, cinte, marche, eccetera, eccetera. E ci sta, per carità. Ma benedetti questi momenti di silenzio. Nel romanzo ci sono delle pagine, sono quelle alle quali sono più affezionato forse, in cui i personaggi fanno dei cosiddetti giochi di silenzio. Cioè stanno in silenzio senza fare niente, semplicemente a riflettere. Allora ogni tanto bisognerebbe dare dei compiti a scuola di questo tipo, cioè obbligare un quindicenne a stare in silenzio per dieci minuti. Al settimo minuto un sedicenne, un quindicenne si strapperebbe la pelle di dosso, perché non ha neanche la musica e quindi è terribile. Dice, ma io chi sono quando sto in silenzio? E Leo quello che impara forse nel romanzo alla fine è a stare un po' in silenzio. E lo fa grazie a Beatrice che gli insegna questo gioco di silenzio. Lei è la prima che gli insegna a stare in silenzio e a chiedergli che cosa vedi quando sta in silenzio. E poi questo gioco se lo ritrova con Silvia come chiusura per dire che appunto è il punto di arrivo, la scoperta di se stesso proprio attraverso il silenzio. Se li aiutassimo a stare un po' più in silenzio, banalmente togliendo qualche connessione a internet dalle loro camere, e qui loro mi odiranno, forse li aiuteremmo un po' di chiedere. Spesso non vogliamo chiedere alle persone che ci sono più vicine, che ci sono più vicine perché sono la nostra famiglia o perché sono le persone con cui studiamo, con cui lavoriamo, i nostri amici, le persone con cui dividiamo gran parte della nostra giornata. Però è una cosa che poi ci si porta dietro, nel senso che è una cosa che secondo me se non si impara da giovani poi si fa fatica a fare in età adulta. E si è, d'altra parte portati a dire, io non chiedo e quindi non chiedete niente a me. E che nell'adolescenza, proprio perché c'è questa fame di autonomia, si pensa che chiedere aiuto sia una debolezza. Nel romanzo a un certo punto c'è questa frase che il protagonista dice alla fine di un capitolo, qui finalmente accetta il fatto che possa essere bello manifestare agli altri di essere fragili, quando chi deve contenere questa fragilità la sa e la può contenere, che poi è quello che questi ragazzi cercano. L'adolescenza è una fase in cui si vorrebbe distruggere il mondo ma in realtà si vuole essere contenuti. E quindi quello che succede al personaggio di Leo è che lui ha sempre avuto questo papà e questa mamma lì, pronti ad ascoltare, ma è che lui non li vedeva proprio. E nel momento in cui comincia a entrare nella realtà e capisce che il papà e la mamma discretamente possono affiancarli in questo viaggio, è disposto ad aprirsi e a raccontare, sempre con quella filosofia del monosillabo che caratterizza l'adolescente, per cui papà e mamma che chiedono al figlio come è andata oggi a scuola, dai raccontami, si leva il mugugno dell'adolescente che non vuole raccontare, giustamente. Il punto è se gli adulti, se i genitori, se i professori sono disposti a stare su questo. Il punto è se noi abbiamo la pazienza e la voglia, se crediamo ancora nella possibilità che questa relazione ci sia e sia veramente il miglior stipendio possibile, io parlo da professore, non da genitore. Io credo che ne valga la pena. Finisco una giornata di lavoro e dico ma oggi io cosa ho fatto? Sì ho insegnato Dante, ho insegnato Ungaretti, quello che sia, però ho aiutato a diventare un po' più uomo, un po' più donna questa persona e per fare questo mi devo esporre, mi devo esporre con la mia vita. Per cui fare leggere la prima stesura del romanzo ai miei alunni è un modo di esporsi anche molto forte, ma io questo faccio nella vita, vita una ne ho e me la voglio giocare così. E questo è quello che mi dà la felicità, provare a spendere la vita per gli altri, perché se dovessi puntare solo sullo stipendio, insomma, mi sarei fatto altri pensieri. Un papà dentista che adesso ha chiuso lo studio, perché io ho scelto di fare il professore e i miei fratelli e sorelle hanno scelto pure loro di fare altro. racconto una cosa, io scusate sono logorroico come tutti i professori. L'altro giorno ho presentato il libro a Napoli e quando è iniziata la presentazione a un certo punto ho visto due ultra sessantenni, uno l'uomo con un bastone, che si sedevano tra il pubblico, avevano una somiglianza straordinaria con i miei genitori. Erano i miei genitori. I miei genitori abitano a Palermo, io abito a Milano e da quando è uscito il libro non ci siamo ancora visti. Questi due signori, senza dirmi niente, che hanno fatto? Hanno preso la nave la sera prima, hanno viaggiato come due sposini, si parla di crociera nel romanzo, notte e tempo, e si sono presentati candidamente la mattina come due del pubblico. Allora uno dice, da Venia sei buonista, no, è che la realtà è ancora più buona di quello che ci vogliono fare credere. Hai tirato fuori tu Palermo, allora parliamo. Tu sei siciliano, come ho sentito dire una volta in un incontro, tu purtroppo sei siciliano. Arrivi da una Sicilia, quando abbiamo fatto quella chiacchierata, abbiamo parlato di persone che non sono esattamente sconosciuti, che tu hai avuto vicine, hai avuto Don Puglisi come insegnante, vedevi fisicamente Borsellino ogni domenica, perché abitavi nel tuo quartiere. Arrivi da una città, una terra che sappiamo bene quanto è controversa. Se da un lato ha dato forse luce ai più grandi intellettuali, alcuni tra i più grandi intellettuali, pensatori, scrittori italiani, dall'altro il primo pensiero che si fa quando si dice Sicilia, si pensa alla morte, alla mafia, alle bombe, al falcone, è ovvio, no? Cioè questo è il primo pensiero che viene a noi. Tu ci sei stato, proprio l'hai vissuto quello e mi chiedo quanto, proprio da quello, da quei dolori, da quel sangue, arrivi, nasca la tua, quella che apparentemente è una serenità anche un po' invidiabile. Allora, Palermo 018, quindi il mio DNA, tutto, tutto è palermitano in me, tutti gli eccessi, tutta la passionalità, tutti i difetti, anche l'essere permaloso, l'essere superbo, insomma, tutti i difetti tipici dell'essere siciliano. Poi quest'anno, grande soddisfazione, siamo anche in zona Champions, quindi insomma veramente non abbiamo più altro da chiedere a questo punto. Sì, è una Palermo che mi ha dato, oltre che le origine, io vengo da una famiglia numerosa, noi siamo sei figli e quindi veramente le mie radici sono lì e tutto quello che ho imparato della vita, l'ho imparato in questo mondo folle di questa famiglia, in questa città altrettanto folle. Però effettivamente la mia adolescente è stata segnata da questi episodi qui. Ora sembra così un po'... Quando tu vedi un sacerdote come padre Puglisi che passeggia per i corridoi del tuo liceo ed è un sacerdote minuto e pensi da liceale onnipotenza, col delirio di onnipotenza come tutti i liceali, dice ma figurati questo qui, che va in giro vestito così, che cosa avrà mai da raccontare a 1500 studenti di un liceo pubblico di Palermo? E quindi quelli veramente forti eravamo noi, eravamo noi che avevamo in pugno il mondo, con le nostre urla, con le nostre occupazioni e tutto quanto. Invece questo sacerdote silenzioso è sorridente, ma chi vuoi che sia è un uomo insignificante. Però quando un'estate quell'uomo non torna a scuola perché è morto per le parole che diceva in classe, tu a quel punto devi prendere posizione, cioè devi capire, io di parole in questa mia adolescenza ne sto sentendo tantissime. Qui c'è uno che è morto per le parole che ha detto in classe. e questa è una cosa con cui devi fare i conti, cioè non puoi o prendi posizione o rimane lì come una specie di mostro irrisolto. La stessa cosa valga per Borsellino, appunto, tutte le domeniche a messa io incontravo quest'uomo che anche lui molto silenzioso, molto tranquillo, sempre accompagnato da questa scorta e poi un giorno non c'è stato più e mi ricordo ancora il botto perché abitavo abbastanza vicino a dove è avvenuto l'attentato e sono cose che se ti capitano quando hai quell'età lì ti costringono a prendere posizione, quindi cioè capisce, c'è un poeta francese che dice che la morte chiama le cose alla vita, ecco forse questa è la sintesi, io ho visto morire queste due persone per la verità. Grazie per la visione!